buongiorno allora dal 29 al 31 marzo a verona ci sarà il world congress of families se ne sta parlando per fortuna tanto perché all'inizio in realtà ne parlavano pochissime persone adesso se ne sta parlando e ci si sta mobilitando perché perché si tratta di un congresso mondiale in cui si riuniranno tutte quelle persone che nei propri paesi stanno cercando di far approvare delle leggi per criminalizzare l'omosessualità abolire il divorzio abolire la possibilità di aborto si riuniranno per fare il punto della situazione e capire come agire in futuro soprattutto rispetto all'europa perché quello che interessa a queste persone è che appunto sia preservata la famiglia naturale ho appena visto il video di presentazione in cui c'è questo uomo tatuato e che quindi probabilmente da un'immagine non da l'immagine del vecchio maschio patriarcale ma da un'immagine moderna in cui fa una storia dell'universo e parla della vita del bisogno di preservare la vita e usa due parole in particolare che sono amore e meraviglia ma in realtà lo scopo del congresso è esattamente l'opposto cioè l'unione tra le persone e le relazioni giuste sono solo le relazioni eterosessuali tutte le altre sono sbagliate e in realtà questa è una normalizzazione nel senso che a parte ignorare tutta la storia dell'umanità ma significa che fuori da quel tipo di unione non c'è nient'altro fuori da un'unione per esempio di due persone anche eterosessuali che non desiderano figli che non hanno momenti di intimità solo per procreare anche quello comunque è criminalizzato perché ogni uso di contraccettivi ogni scelta abortiva sono un crimine contro la vita l'importante è preservare la vita ora all'interno del di questo congresso ci sono intanto l'internazionale l'organizzazione organization of families in particolare vi metterò dopo la diretta alcuni link da andare a vedere l'articolo di jennifer guerra su the vision e alcune altre cose quello lo scopo di questa organizzazione è appunto quello di fare in modo che tutto quello che non fa parte della normalità sia criminalizzato in particolare le donne lavoratrici quindi tutte quelle donne che scelgono di essere indipendenti che non vogliono figli o che se vogliono dei figli non vogliono fare le casalinghe la cosa curiosa è che poi le donne relatrici di questo convegno non fanno questo come tutte le persone tutte le autrici che difendono la famiglia tradizionale poi stanno passano la giornata a lavorare o andare in giro a presentare i loro libri si parla appunto del divorzio si parla in realtà di ogni scelta che non alimenta quest'idea di famiglia naturale ci sono all'interno del congresso delle persone che sono state già condannate per la violazione dei diritti umani qui non si parla di persone che semplicemente dicono come i nostri italiani che conosciamo che vengono fuori dicendo che la famiglia è una sola no non è non è questo modello l'italiano sono delle persone che in uganda in russia sono state promotrici di leggi contro contro l'omosessualità contro il divorzio contro l'aborto e sono state già accusate e a volte connannate per violazione dei diritti umani si sta parlando di qualcosa di pesante perché si fa a verona questo è un punto interrogativo verona sta diventando il fulcro di iniziative di questo tipo di iniziative omofobe discriminatorie perché si fa in italia però è abbastanza chiaro tant'è che questo questo congresso ha il patrocinio della provincia di verona della regione adesso anche delle friuli venezia giulia prima della presidenza del consiglio poi è stata tolta perché non se ne erano accorti ma comunque il patrocino del ministero della famiglia e questo per delle ragioni specifiche perché in italia è molto facile far veicolare queste idee quindi criminalizzare tutto ciò che non fa parte dell'idea della famiglia tradizionale e perché questa cosa è fatta anche in vista delle elezioni europee dietro ovviamente ci sono c'è sempre la grande madre russia che finanzia tutto questo si è fatta promotrice poi negli ultimi anni anche questa di leggi discriminatorie e dietro c'è l'idea della mistica della femminilità c'è l'idea che le donne devono stare a casa le donne naturalmente sono casalinghe devono prendersi cura della propria famiglia e gli uomini invece devono fare tutto il resto possono appunto andare fuori possono avere successo questa idea fortemente maschilista è molto forte in italia ed è molto fastidiosa per tutte le persone che in realtà non non fanno questo tipo di non danno giudizi di genere su ciò che si fa ora su questo dovrei fare ma lo farò dovrei fare altri discorsi perché è fondamentale mettere come dire mettere in evidenza quello che sta succedendo quello che ancora succede perché una donna in italia che si occupa di cose che non sono da donne è ancora fortemente discriminata e fortemente giudicata avete visto probabilmente in video in cui un telecronista diceva che era inguardabile una donna che che faceva appunto si occupava di una partita di calcio è ancora inguardabile strano è troppo strano che una donna faccia un lavoro da uomo perché il campo di calcio il calcio è uno sport maschile per cui non solo le donne non possono giocare all'interno di quel campionato ma non possono neanche occuparsi poi dei ruoli arbitrali scriminalizzazione dell'omosessualità si usano queste parole come amore e meraviglia quando in realtà amore e meraviglia possono nascere solo in un contesto in cui ciascuna persona abbia la possibilità di ascoltare se stessa quindi se ci sono dei desideri che io ho se ci sono delle spinte che io ho se c'è un amore che io provo verso una persona e però quella cosa non rientra in quel modello di famiglia ancora allora quella cosa è sbagliata anche se si tratta di una famiglia di una coppia eterosessuale che decise per esempio di non avere figli questa cosa è è assolutamente criminalizzata dietro per quanto riguarda l'italia ci sono dei movimenti che sono movimenti di estrema destra quest'idea della famiglia di questo congresso in realtà nasconde interessi economici enormi si tratta di 216 milioni di dollari all'anno di finanziamento per questa international organization of families più vari accordi che vengono stretti tra le varie organizzazioni nazionali per cui non è che si tratta solo di difendere quell'idea di famiglia si tratta di accordi che vengono politici economici che vengono creati tra queste persone e poi dietro ci sono tutti quei movimenti che alimentano l'idea di difesa dei bambini difesa della famiglia difesa della vita in generale vi consiglio a questo proposito me lo metterò nei link quali sono le origini del movimento pro vita in italia in particolare dietro il movimento pro vita ormai è molto chiaro che c'è forza nuova ci sono questo tipo di forze bisognerebbe chiedersi come mai queste forze così discriminatorie che hanno degli ideali evidentemente fascisti poi vogliano difendere a tutti i costi la vita perché è assolutamente contraddittorio ma oltre che contraddittorio ci sono degli altri interessi dietro ci sono delle altre ragioni per cui quell'idea di normalità deve essere costantemente fomentata è un momento in cui dato che questo tipo di congresso ha un eco così forte ospiteremo in italia dei personaggi che sono stati appunto condannati per delle azioni così criminali di violazione dei diritti umani di fronte a tutto questo bisogna prendere posizione bisogna non si può far finta di niente non si può far finta che non stia succedendo per quanto mi riguarda io sarò a verona il 29 marzo per un evento organizzato da radicali italiani in cui si parlerà si chiamerà dialoghi d'amore perché si parlerà dell'amore vero un amore che non ha quel tipo di barriere non vuole essere normale ma vuole essere autentico per cui si parlerà di autenticità con finomena gallo con la portavoce di si watch con delle persone che hanno cercato con la propria attività non di dire alle altre persone che cosa dovessero fare come dovessero vivere ma di dare a tutte a tutti il diritto di vivere secondo i propri desideri buona giornata